Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale L'ospedale unico verrà costruito a Fosso, sei ore, svelato l'algoritmo della regione Ceriscioli, andremo avanti fino in fondo, reazione dei due sindaci di Pesaro e Fanno Ricci, scelta sbagliata, Seri, la nostra una battaglia senza imposizione Si avvicina l'inverno e si riaccendono i termosifoni, ecco cosa c'è da sapere sulla manutenzione delle caldaie Inaugurato alla presenza del Vescovo di Fanno, il nuovo centro sanitario gestito dalla Caritas Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Dunque come avete sentito, l'ospedale unico si farà e si realizzerà, verrà costruito a Fosso, sei ore Questo era il nome scritto all'interno della busta, che tra l'altro ieri non è stata aperta Ma il nome è stato svelato Dunque Ceriscioli ha detto oggi il processo andrà avanti Mentre le reazioni dei sindaci di Pesaro e Fanno sono più o meno sullo stesso tenore Per Ricci la scelta di Fosso, sei ore, è una scelta sbagliata Mentre Massimo Seri, il sindaco di Fanno, ha dichiarato La nostra è stata una battaglia senza imposizioni dall'alto L'ospedale unico si farà e la prima soluzione dell'algoritmo è Fosso, sei ore Non si è fatta attendere la risposta del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli Dopo quanto avvenuto nell'assemblea dei sindaci di Area Vasta Che aggiunge Non aver votato i criteri per la regione è comunque una decisione Soprattutto considerando la volontà perseguita di non decidere nulla da parte dei sindaci Come a dire, una non decisione è anche pur sempre una decisione E ne prendo atto, quindi ora decido io Visto che ha ancora la delega alla sanità Che l'assemblea di ieri, qualunque fosse stato il risultato, sarebbe stato un punto di svolta Lo si era capito da un pezzo Ed infatti, a suffragio di questo, arrivano le parole del sindaco Gambini A posteriori, che con la seduta di ieri ritiene concluso il percorso dell'assemblea dei sindaci Per individuare il sito della futura struttura Quindi si torna al punto di partenza, ovvero con quanto già deliberato dalla precedente legislatura Fosso, sei ore, appunto Ma pare che questo algoritmo non stia indigesto solo al sindaco di Fano Massimo Seriche, imperterrito Ribadisce che Chiaruccia sia il santo gralla della sanità provinciale Ma stia un po' sullo stomaco anche ai più diretti interessati Ricci non tarda a far sapere che Fosso, sei ore, è una scelta tecnicamente sbagliata Che non tiene conto di quanto discusso ieri, appunto Il primo cittadino pesarese getta la maschera anche lui E non fa più mistero di spingere a tutta forza verso Muraglia La stragrande maggioranza dei sindaci, dice il numero 2 del PD Ha ribadito la priorità a costruire nel costruito E per chiudere quindi definitivamente la porta ad altre opzioni Dice la scelta di Fosso, sei ore, è molto rischiosa, molto lunga e sicuramente più costosa Come dire, Muraglia è già qui, ampliamolo E come dicevamo anche il sindaco di Fano Massimo Seri Ha voluto commentare oggi la decisione della regione di fare questo nuovo ospedale a Fosso, sei ore Noi abbiamo proposto Chiaruccia, la soluzione migliore sotto ogni profilo Ha scritto in una nota il sindaco di Fano Pensando ad un ospedale di secondo livello per tutti i cittadini della provincia Un sito su area pubblica servito da grandi infrastrutture facilmente accessibili fuori dai centri abitati E rimaniamo fermamente convinti, dice ancora Massimo Seri Della bontà della nostra proposta per oggi e soprattutto per domani La regione che ha competenze in materia di sanità aveva già scelto da tempo il sito di Fosso, sei ore Noi ce l'abbiamo messa tutta per modificare questa scelta Facendo una battaglia a viso aperto e senza accettare imposizioni altrui Se anche altri, anche a livello di territorio, avessero meglio valutato e condiviso la nostra proposta Avremmo potuto cambiare le cose Così purtroppo, però, a concluso Seri, non è stato E adesso la cronaca Un incidente stradale si è verificato questa mattina all'incrocio tra via Veneto e via Mariotti Per una mancata precedenza, ma senza alcuna conseguenza per i conducenti delle auto Poco dopo le 10, un Fiat Doblò guidato da un sessantenne fanese che procedeva in via Mariotti In direzione Ancona-Pesaro, non ha rispettato la precedenza Ed ha urtato a centro della carregiata una Fiat 500 Con a bordo una donna di Fano di 72 anni L'auto della donna, dopo un testa a coda, ha terminato la sua corsa Contro una lancia Y parcheggiata lungo via Veneto, a pochi metri dall'incrocio Sul posto per i rilievi di legge sono giunte due pattuglie dei vigili urbani di Fano Nessuno dei due automobilisti ha fatto ricorso alle cure dei sanitari Solo tanto spavento, dunque, per l'anziana signora Allora, c'è un aggiornamento per quanto riguarda la notizia La morte per esalazioni di due persone Di una coppia di coniugi, avvenuta ieri ad Urbino Ed è stata, secondo quanto si apprende La caldaia del vicino A sprigionare il gas benefico Che ha ucciso la coppia Urbinate E lasciato in fin di vita l'anziana tedesca Che abitava al piano di sopra Lo hanno accertato i tecnici dei vigili del fuoco Che la notte scorsa hanno fatto un test Accendendo la caldaia di un vicino di casa Per constatare l'eventuale perdita di monossido di carbonio Visto che le caldaie delle due persone decedute La caldaia delle due persone che erano decedute Era regolarmente spenta Così come era spenta quella dell'anziana tedesca E dunque ecco spiegato Che come il gas si è entrato nella casa In affitto in via a Stallacce 9 Di queste due persone Una di 50 anni e l'altra di 47 Uccidendoli in poco tempo La donna invece era pensionata tedesca Ha 76 anni, ora in fase di ripresa Ed è ancora ricoverata in ospedale Comunque il magistrato ha deciso di effettuare L'autopsia, le autopsie sul corpo delle due vittime E a proposito di caldaie Avete visto purtroppo un malfunzionamento Di una caldaia ha provocato la morte di queste due persone Sta arrivando l'inverno Si accendono e si sono già accesi i termosifoni Dunque parliamo adesso della manutenzione delle caldaie Ecco cosa c'è da sapere Con l'arrivo della stagione invernale Arriva anche il momento della manutenzione delle caldaie Che assicurano il comfort delle nostre abitazioni Ma a riguardo di cosa, quando e perché farlo Spesso si fa un po' di confusione Controllo dei fumi, manutenzione ordinaria Certificazioni, efficientamento energetico Bollini verdi Una giungla nella quale spesso gli utenti si perdono E si rischia di avere un impianto Oltre che non efficace, anche pericoloso Come purtroppo i recenti casi di cronaca ci hanno insegnato E allora è opportuno avere le idee ben chiare a riguardo In tema di riscaldamento domestico Qual è la normativa vigente allo stato attuale? La normativa vigente è la legge 1091 Cosiddetta legge sul risparmio energetico È stata attuata con vari decreti attuativi L'ultimo dei quali è il DPR 74 Questa legge ha come obiettivi prioritari Quello della riduzione dei consumi Del resto si chiama legge sul risparmio energetico La riduzione dell'inquinamento E la sicurezza degli impianti Quindi in base a queste disposizioni I cittadini che cosa devono fare? I cittadini devono intanto sottoporre Gli impianti alle manutenzioni di legge Perché la legge prevede che ogni anno Deve essere fatta la pulizia della caldaia Debono compilare, fare compilare Dei manutentori il libretto di impianto E nel libretto di impianto Deve essere notate tutte le manutenzioni Che riguardano tutti gli impianti Anche quelli del freddo Debbono indicare all'ASET La frequenza e la periodicità Degli interventi di manutenzione Questo lo fanno ovviamente i manutentori Utilizzando il portale di ASET Holding Che è l'azienda affidattaria Debbono inviare ad ASET Holding I rapporti di controllo Con periodicità quadriennale Con il bollino di 14 euro Quindi il costo di 3 euro e mezzo Carico dell'utente all'anno per 4 anni E questa operazione la fanno sempre i manutentori E debbono inviare anche Ogni 2 anni a metà quadriennio Le dichiarazioni di avvenuta manutenzione Senza bollino, gratuitamente Anche questa è un'operazione che fanno i manutentori Ultima cosa Debbono esibire le dichiarazioni di conformità Degli impianti alla regola d'arte E se non si trovano le dichiarazioni Debbono esibire le dichiarazioni di rispondenza Perché il comune non deve verificare Soltanto che gli impianti Vengono sottoposti alla manutenzione Ma la prima cosa che debbono controllare È che gli impianti siano a norma Perché un impianto può anche essere ben manutenuto Ma se non è a norma C'è il rischio di qualche rotto E poi succede quello che è successo Purtroppo due giorni fa a Durbino Per fortuna che a guidarci In questa giungla di normative E ad evitarci sanzioni salate Se facciamo tutto per bene Ci pensano i manutentori qualificati Che effettuano sul nostro impianto Ben oltre 36 controlli E sanno esattamente Cosa e quando farlo Noi controlliamo Innanzitutto tiriamo giù la camera di combustione Tiriamo giù il pezzo Che potrebbe essere un bruciatore Se è una cadacone in stazione Daviamo i cesti Con un prodotto particolare Antiossidante e tutto Biologico Poi praticamente cosa si fa Si fa tipo una manutenzione Si confine i vasi di espansione Si tirano giù Si controllano le varie tenute Specialmente del gas E si cambiano sempre Le guarnizioni del gas Sia sulla parte della valvola del gas Sia sulla parte del bruciatore Quello sempre L'importante è come prova di tenuta del gas E poi anche come rendimenti Perché chiaramente Essendo una caldaia bilanciata Se la caldaia aspira troppo ossigeno O troppo gas Quindi aumenta il CO Aumentano le conseguenze Si sporca di più e quant'altro Dalla regione arrivano i soldi Per la manutenzione delle scuole E per l'edilizia scolastica Così ha annunciato il consigliere regionale Nonché vicepresidente dell'Assemblea legislativa Il fanese Renato Claudio Minardi La regione Marche ha destinato Con un provvedimento dei giorni scorsi 2 milioni e 355 mila euro Alla provincia di Pesaro Urbino Per l'edilizia scolastica È un intervento importante Per il quale va ringraziata La Giunta Ceriscioli L'assessore Casini Che è l'assessore con delega All'edilizia scolastica Perché queste risorse Destinate a 4 comuni Della nostra provincia Nello specifico Il comune di San Giorgio Il comune di Peglio Il comune di Cantiano Il comune di Lunano Avranno la possibilità Di investire queste risorse Per le scuole Destinate alla sicurezza All'antincendio Agli ampliamenti All'antisismica Ovviamente sono risorse importanti Perché le scuole Dove studiano i ragazzi Giovani Dove vanno i bambini Nelle scuole Si formeranno Le nuove generazioni E i giovani I ragazzi Hanno diritto Ad andare a scuola In luoghi adatti Idonei Sicuri Questo credo Che sia un intervento importante Che destina Nella Regione Marche Complessivamente Quasi 7 milioni di euro E prevediamo Peraltro Un'altra cifra Importante Nei prossimi mesi Perché la finanziaria Nazionale Siccome sono risorse Che provengono dallo Stato Sembra che destinerà 1 miliardo e 700 milioni A tutto il paese E questo potrebbe significare Che nella Regione Marche Potrebbero arrivare Circa altri 50 milioni Sono cifre importanti Che potrebbero portare Ad esaurimento Una graduatoria Che c'è Che esiste Che in essere Che potrebbe dare soddisfazione A tutte le richieste E ovviamente Dare la possibilità Di migliorare Le condizioni Scolastiche Ai bambini E ai ragazzi Per il prossimo futuro E questa mattina A Fano È stato inaugurato Il nuovo centro sanitario Gestito dalla Caritas Il rapporto della Caritas Pubblicato questo mese Sulla soglia di povertà In Italia Mostra un dato allarmante 3 milioni in più di persone Che vivono sotto la soglia Di povertà In 7 anni Siamo passati Da 1 milione e 8 di persone Nel 2007 A 4 milioni e 6 Nel 2015 Numeri spaventosi Un aumento esponenziale Drammatico Di chi vive In uno stato di indigenza Ma la povertà Non è solo Non potersi assicurare Un pasto caldo a giorno O dei vestiti puliti Un'altra faccia Della povertà Se vogliamo Ma ancora più drammatica È il non potersi curare Non poter usufruire Di quell'assistenza Di base Che ogni cittadino Ha garantita A questa domanda Trova risposta Il nuovo centro sanitario Della Caritas Diocesana Inaugurato questa mattina A Fano In via Fanella Alla presenza Di autorità E del Vescovo La salute È come la fame Chi non ce l'ha Cerca di sfamarsi E a volte bisogna accorgersi Di aver bisogno Della salute Queste strutture Aiutano anche A percepirle Ma anche a dare Piccole risposte E incalanamento Su delle possibilità Di risposta onesta È onesta Per chi magari Non ce la fa da solo Per chi ha difficoltà Mi pare che sia Un dovere Di noi cittadini Un po' più fortunati Più che una Una grazia Una restituzione Per delle fortune Che abbiamo E credo che la Chiesa Abbia Non solo l'onore Ma anche l'obbligo morale Credenti o non credenti Di restituire qualcosa Per quello che la vita Ci ha dato Gratuitamente La realizzazione Di questa struttura È stata possibile Grazie al contributo Alla CEI Dell'8x1000 Ci siamo resi conto Che aumentano Le persone Che non hanno Non solo Diritto A accesso Al cibo Ai vestiti Alla casa Al lavoro Ma anche Soprattutto Sulla salute Sembra proprio Che salute E povertà Vadano insieme Sia per cause Primarie Che per secondarie Ma Allora abbiamo pensato Di fare un progetto 8x1000 Della conferenza Episcopale Italiana La quale ci ha Finanziato Già il primo anno Di questo progetto Biennale Che si chiama Servizi di orientamento Alla salute Alla salute Che prevede Due centri medici Uno a Fano In via Fanella 93 E l'altro A Ponte degli Alberi Per dare proprio Un orientamento Alla salute Le tante persone Che hanno Problematiche Mediche E che non possono Fare di fronte E che O che non hanno Addirittura Diritto Ad avere Accesso Ai servizi Sanitari Indirizzare Indicare Un percorso Una speranza Per chi non può O non riesce E questo Il compito Di questa struttura Il cui peso Ricade Su chi vuole Prestare Opera di assistenza Volontaria Saranno delle prestazioni Di medicina generale Soprattutto quindi Ascolto E orientamento Sul territorio Avremo bisogno Quindi anche Un appello Di medici E infermieri Volontari Che ci copriranno I turni E ascolteremo Incontreremo Le persone Che verranno Inviate Dal centro D'ascolto Diocesano O dalle Caritas Parrocchiali Faremo tutto Un lavoro Di orientamento Sul territorio E di invio Ai poliambulatori E ai medici Che saranno Convenzionati Con il centro Salute Caritas E questa mattina I pensionati Della CGL Cisle Will Del territorio Di Fano Si sono incontrati Al cubo Di San Lazzaro Per discutere L'accordo Nazionale Sulle pensioni Siglato Il 28 settembre Ad illustrare Questo accordo È stata La segretaria Regionale Aurora Ferraro Insieme al Segretario Dei pensionati Della Cisle Di Fano Luciano Rovinelli I segretari I segretari I segretari Provinciali Cattia Rossetti E Paolo Sacchi E il segretario Regionale Giulio Grazioli Tra i risultati Raggiunti L'aumento Della No tax Area Dei pensionati Fino a 8.125 euro Come lavoratori dipendenti E più soldi Nella 14esima Mensilità Saranno aumentate Del 30% Per chi ha Un reddito mensile Fino a 750 euro E la riceveranno Per la prima volta Anche coloro Che hanno un reddito Mensile Fino a 1000 euro Interessati a questa manovra Saranno 3.300.000 Pensionati Italiani Chiudiamo Il telegiornale Con un'altra Segnalazione Che è giunta Al nostro Numero 338 4968 250 Attraverso Whatsapp Lo guardiamo Con l'aiuto Della Grafica Un messaggio Che riguarda Gli autobus Le corse Degli autobus E in questo Messaggio C'è scritto Vorrei segnalare La situazione All'interno Dell'autobus Numero 35 Di Adriabus Delle ore 13.50 Nel tratto Pesaro-Fano Vorrei far notare Come lo smisurato Numero di passeggeri All'interno del mezzo Possa costituire Un pericolo In caso di incidente Inoltre il continuo Sovraffollamento Del mezzo Causa numerose Tensioni E disagi Tra i passeggeri Che sono costretti Ad utilizzare Questo mezzo Chiediamo All'Adribus Di provvedere Al più presto Per risolvere Il problema Continuate a mandare Le vostre segnalazioni Al nostro numero Che avete visto Poco fa In sovraimpressione Le vostre segnalazioni Sono per noi Come sempre Molto importanti E allora Il telegiornale Si chiude qui Domani mattina Alle 7.30 Ci ritroveremo In diretta Per la rassegna stampa Occhio ai giornali E poi Per tutte le altre notizie Il nostro sito internet Occhio alla notizia Punto it Grazie per averci seguito E arrivederci Grazie per averci seguito